Più controlli nelle aree pubbliche ma anche corsi di formazione per i proprietari. Così si è concluso il primo tavolo tecnico presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Arezzo per affrontare l'argomento cani difficili, un passo che si è reso necessario dopo le aggressioni che si sono verificate quest'estate, nelle quali esemplari di Pitbull hanno in un caso ucciso una cagnolina e di un altro ferito un cane di grossa taglia. Presenti al tavolo le associazioni OIPA ed EMPA entrambe da tempo caldeggiavano infatti un'iniziativa di questo genere. Esprimiamo soddisfazione per il contenuto emerso dall'incontro, commentano, che sarà sviluppato nei prossimi giorni. L'obiettivo non è intervenire sul cane ma sulla cattiva gestione da parte del proprietario. Il cuore del problema proseguono le associazioni come gli stessi cittadini hanno evidenziato più volte non sarebbe infatti l'indole degli esemplari più aggressivi ma l'incapacità dei proprietari di gestirli. Come fare? Educando concludono i proprietari con un apposito percorso. Presente infine all'incontro anche il personale dell'Asla Veterinaria che ha già annunciato massima collaborazione per i corsi di formazione. Presente infine all'incontro anche per i corsi di formazione.